Ancora una volta ciao ragazzi e ben ritornati nella serie della failcraft Siamo tornati pronti carichi io e Stefano sembriamo due gemelli Carichi e pronti a combattere insieme eh amico mio Che gemelli Voi due siete gli esclusi della situazione Mister Budino al caramello e Mister Budino alla menta Comunque ragazzi siamo tornati sono contentissimo perché Nello scorso episodio eravamo rimasti in grande difficoltà Potete vedere qua intorno a noi che la situazione è anche peggiorata E quindi io sono felice voi vi direte ma perché sei deficiente Sei diventato tutto scemo tutto un tratto No sono contento perché il vostro sostegno nello scorso episodio è stato più che dal solito Tantissimi pollici su tantissimi commenti di incoraggiamento Sembra che ogni volta che siamo in difficoltà ci sia più sostegno dagli altri Comunque non perdiamoci in chiacchiere mi raccomando anche per questo episodio Conto sul vostro sostegno sosteneteci E adesso diamo un'occhiata a quello che c'è qua intorno Eravamo rimasti qua in questa caverna nascosti dalla notte oscura che era sorta nello scorso episodio Ma è successa una cosa poco piacevole Qua intorno a noi sono spawnati sangue e teste di Pete Vi ricordate Pete? Lo avevamo visto un sacco di episodi fa E anche teste di cani moleste Scheletri Torce di redstone Insomma sembra che qualcuno abbia festeggiato qua in questa caverna mentre noi non c'eravamo Comunque direi di non perdere altro tempo Dobbiamo tornare a casa e metterci al lavoro Alla trappola che vogliamo fare Quindi saliamo forza Sbrighiamo Entity mi ha scritto Entity mi ha scritto This world must be purged Questo mondo deve essere purificato Che cazzo Ragazzi ho anche il pandemonium Ho il pandemonium di nuovo al massimo Potrebbe essere di nuovo un sogno Non preoccupatevi Venite con me seguitemi Potrebbe essere un sogno ma state attenti Cazzarole di nuovo al massimo Qua c'è uno strano È uno spaventapasseri questo Che cazzo di figurine Oddio Oddio Ragazzi Oh mio dio è un enorme Oh santo dio è un enorme È un enorme uragano Mario Che cazzo sta succedendo Oddio stoppola via Siete usciti Oh mio dio era un altro incubo Per fortuna Dio santo E qua sta di nuovo sorgendo la luna rossa Dio santo ma lo spaventapasseri è reale Non era parte dell'incubo Ogni volta nell'incubo è anche la grotta Poteva essere tutto parte del sogno Ma in realtà no È anche qua nel mondo reale Che cazzo sta succedendo È strano È come se questi incubi Si stessero avvicinando Sempre di più alla realtà Sempre di più Come se fossero Nient'altro che visioni Visioni di quello che sta per succedere Comunque Come quando abbiamo lasciato L'episodio la scorsa volta Sta sorgendo la luna rossa Dobbiamo tornare a casa E dobbiamo anche sbrigarci Oh ok Poteva andare meglio Ma ormai siamo diventati Talmente forti e combattivi Che niente ci spaventa più E riusciamo ad ammassare Qualsiasi mostro Ma qui in casa C'è qualcosa di diverso Qualcosa è cambiato La mappa che prima indicava Il punto dove era Steve Con la sua faccia Guardate un po' adesso Che cos'è Ero Brian Oh 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 C'è di nuovo il fantasma Guardatelo questa volta Lo vedo bene E lui è Steve Nella sua apparenza Quella originaria E lui Steve Che cacchio ci fai qui Non va via Steve Ma Un libro Un libro nell'inventario Ecco che cosa è venuto a fare My last aid Di Steve Mi ha dato un libro E se n'è andato Oh Steve Io non capisco Perché continuo ad aiutarci Ma my last aid Vuol dire il mio ultimo aiuto Quindi questa è l'ultima volta Che verrà ad aiutarci Oh cazzo Quando la corruzione Ha Avvolto Questo mondo Un posto è stato creato Per darvi Una possibilità Di Di spell Di Scioglierla Di Di Farla diventare Come se non esistesse più La corruzione Immagino Non l'avete trovato in tempo Ma è ancora là Potrebbe essere perfetto Come il pezzo mancante Del vostro piano L'ho trovato per voi Durante il mio Vagare Il mio girovagare Come un'anima Persa Andateci Adesso E ci sono le coordinate precise Di questo posto Che da quello che dice Potrebbe essere la chiave Per sciogliere la corruzione No No La chiave del nostro piano E il nostro piano qual è? Il nostro piano È quello di trovare La trappola per aerobrani La spada leggendaria Forse è quella che ci è stata data Come possibilità Al tempo Quando la corruzione è iniziata Per fermarla E adesso noi potremmo usarla Non più per fermarla Ma per Metterla in gabbia Perché lui sa Che quella è la chiave Per ucciderlo E potrebbe essere abbastanza Preoccupato da questa chiave Da fermarci E da volerla prendere E se noi la mettessimo Nel posto giusto Su un piedistallo invitante Al centro della gabbia Che cosa succederebbe Il mio amico Stefano Eh? Attirerebbe Ah Hai detto proprio bene Quindi potrebbe essere L'idea perfetta Fammi riguardare le coordinate Allora le coordinate Sono 4.324 Meno 12.442 Oddio santo Ma è dall'altra parte del mondo Ma è lontanissimo Sì L'unica cosa che potrebbe aiutarci In questo caso È il modo di volare E ora che ci penso Noi abbiamo il modo di volare Come? Le barche È vero? È vero Le barche che abbiamo trovato Nell'Ether Anna ce l'hai ancora Dimmi che ce l'hai ancora Sì sì certo ce l'ho Perfetto Ok al mattino Ci imbarcheremo per questo viaggio E speriamo che ci vada bene No ve le droghe Ah aspetta Aspetta I mostri Aia Oddio Oddio santo Stavi per sparare a me Eh tu non ti mettere mai Davanti al mio fuoco Poderoso Mario Perché Ehi Ma noi abbiamo l'abilità Di respingerli Noi li respingiamo Niente ci fa Cosa cacchio era quel ruggito Mario Che cosa sta succedendo C'è un verme di lava Eccolo Ammazza quello Lui lascia lo schifo Sì l'ho notato Ecco da dove arriva Questo schifo maledetto Lo lascia questo qua Oh brutto verme Schifoso L'hai visto quanto era brutto Non c'è andare Non c'è andare che ti ammari Oddio santo Sentite La volta scorsa Abbiamo provato ad aprire La cassa che c'era qua dentro Ma adesso Abbiamo ucciso un sacco di mostri E quindi Siccome richiedeva delle anime Forse ora si può aprire Aia Aia Ok Aspetta Aia Aia Ma porca di quella Aspettate Ho un'idea Preparate un secchio d'acqua No 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 Lo so Sono andato sullo schifo Aspettate Posso arrampicarmi Ok L'ho aperta L'ho aperta Ok c'è un libro Si chiama Final Prophecy Di Entity 303 Ed è pieno di Lacrime incantate E teschi Prendo alcune delle lacrime incantate Aia Ah santo cielo Questa roba brucia E sono anche diventato Di nuovo malato Di quello schifo del verme Comunque Un attimo Fatemi leggere Questo altro libro Abbiamo ottenuto Un libro di Steve E adesso abbiamo ottenuto Un libro di Entity Leggiamolo C'è scritto Oddio Questo è complicato Unlashed the gates Of pandemonium Rilasciati i cancelli Del pandemonium Sono libero Di richiamare Tutti i miei demoni E le maledizioni A mio piacimento Sto aspettando Per il momento perfetto Non aspetterò Molto altro Però Ci sarà Solo morte Il cielo Cadrà in pezzi Distruggendo La terra In una Piscina Di distruzione Ardente I draghi I draghi Distruggeranno Le persone E il mondo Sarà finalmente Liberato dal suo peccato Oddio santo Sembra un pezzo Dell'apocalisse Della bibbia Ma è impressionante Il mondo sarà Finalmente liberato Dai suoi peccati Quali sono i peccati Di questo mondo Noi Speriamo di no Ho capito Un ragazzo Nei commenti L'ha scritto Aerobrine ed Entity Hanno due obiettivi diversi Aerobrine è la corruzione Entity vuole pulire Il mondo Dalla corruzione Avete capito Ma scusa Se noi Entity Stiamo facendo la stessa cosa Perché Entity ci rompia No Non è buono Entity non vuole Guarire il mondo Da Aerobrine Entity Ha definito Questo mondo corrotto E lo vuole Distruggere Sapete Avete presente Nei film Quando c'è Quella figura Che esagera Cioè Ad esempio In questa casa Ci sono due ostaggi Con un criminale Distruggiamola Arradiamola al suolo Ecco Entity Vuole fare questo È un pazzo È un'entità malvagia Vuole distruggere il mondo Perché è corrotto Non risanarlo Come facciamo noi Non ripulirlo Ma distruggerlo Raderlo Completamente Al suolo Non possiamo permetterglielo Questo è il nostro mondo È vero È corrotto da Aerobrine Ma non è Da distruggere Noi possiamo Forse Forse se noi catturiamo Aerobrine Gli dimostriamo che Il mondo È ripulito Forse lui non dovrà più Distruggerlo E quindi il pandemonium Si fermerà È la nostra unica speranza Dobbiamo correre le coordinate Anna deploya le barche Deployale Ma voi dite che È più veloce che andare a piedi Questo fatto Siete sicuri Perché so Cioè non è che sia proprio il massimo Secondo me ci impieghiamo Sei anni così Cioè ci impieghiamo Una vita e mezza Oh andate a fanculo Andate Oh venite Non ce ne frega niente Delle barche Ormai siamo arrivati 4288 Meno 12400 Siamo arrivati Deve essere questo tempio qua Questo piccolo tempio di Sandstone È l'unica cosa che c'è Quanto Aspettate un attimo Oddio santo Guardate la mia mappa Oh santo Dio Mi sa che è quello Mi sa Oh cazzo Guardate dentro È un'enorme barriera Santo Dio Guardate Va fino all'alto del cielo Quella barriera Oh è spettacolare Ed è un tempio È un grande tempio È una specie di capannone Proviamo ad avvicinarci Fate attenzione però Fate molta attenzione Guardate dentro Ci sono tanti Anu Li riconoscete? Sì Occhio Aspetta Non so io Ma non possiamo entrare E questa barriera va fino Va fino alla bedrock È come se fosse Ci impedisse di entrare Ma guardate dentro Guardate c'è qualcosa C'è un enorme Quadro occhio Là sopra E ci sono tutti questi Anu Che in questo momento Molti di loro ci stanno guardando Sembra Qualcosa di importante Qua dentro c'è qualcosa di importante Me lo sento E le coordinate sono all'incirca queste Qua intorno non c'è nient'altro Di così grande È imponente Ma come possiamo fare Ad entrare? Come possiamo fare? Santo cielo Ci deve essere il modo Ci deve essere la maniera Di passare qua dentro Pensate Riflettete Cosa può essere la chiave Per arreprire questo luogo? Steve non ci avrebbe detto Di venire qua Se non fosse stata La soluzione Entrare qua dentro È la soluzione Come entriamo? L'unica cosa Che mi viene in mente È qualcosa Che c'entri coi fossili Perché quelli sono degli Anu Gli Anu erano Quei mostri Che noi avevamo trovato Relativi all'Egitto Vi ricordate? Lion forse Se corro veloce Lo posso rompere Prova Vai lanciati Con tutte le tue forze Vai No Ma devi andare di testa Vabbè però ci hai provato Dai almeno Ci hai provato Scusa E se fosse qualcosa Di più grosso Che ci sbatte Siccome è antico Dentifricio? Allora Allora Ha detto una cazzata Perché C'è qualcosa Che ci sbatte È una cazzata È una barriera magica Dentifricio Ogni volta Che va in giro Spatte tutto Silenzio Silenzio Prima di tutto E poi Forse ha ragione Dal punto di vista Di dentifricio Perché se questa zona Contiene degli Anu E gli Anu Hanno la spada Dei fossili E sono loro stessi Parte del mondo Dei fossili Dentifricio Viene da un fossile E l'unica cosa Che abbiamo È che tra l'altro Ci è stata tolta Di recente Con un meteorite È vero È Non a caso Forse è vicino a casa Forse è ancora lì Perché qualcuno Aveva detto Che già prima Che esplodesse il meteorite Sulla sua gabbia Lui era già scappato Quindi forse è ancora lì E forse lui È la chiave Per aprire questo luogo Ma adesso c'è una domanda Come cazzo facciamo A tornare a casa E a ritornare qua Senza che il pandemonium Schizzi al massimo Sta già a 2550 Abbiamo fatto un viaggio lungo Non possiamo permetterci Di farlo Altre due volte Con dentifricio poi I portali del nether Il nether Accorcia la distanza percorsa È vero Di tante volte È vero È vero Se noi passiamo per il nether Però dobbiamo essere precisi Possiamo trovare dell'ossidiana qua sotto Non è troppo difficile E abbiamo i picconi per minarla Quindi diamoci da fare Scaviamo qua sotto Se andiamo dal tempio magari Il tempio ha già Una sua discesa Già preconfigurata Entriamo Entriamo Forza Dobbiamo trovare l'ossidiana Che ci serve Accendere il portale E andare nel nether Dal nether Riusciremo ad arrivare Molto più in fretta Perché la grave Soldato Che stai facendo là sotto Ti sento soffrire Ma cosa Sei sotterrato Sei sotterrato Scavatelo Stai bene Non scavo più Sì sì fate voi Ciao No continua a scavare Non demordere soldato Abbiamo bisogno di tutte le energie E tutta la velocità di scavaggio Ogni secondo è prezioso Forza Continuare Ho fatto una caverna Perfetto Una caverna è ottima Potrebbe Ottimissimo Qualcuno ha un secchio d'acqua Per caso Eh Sì io Ok ma Anna Tutto Ma io fluttuo Non è vero Non ho fluttuato manco per il caso Mario non guardo che blocco Aspetta devo insultarlo Sei una merda Mi hai spinto di sotto E se morivo Eh non morì Tu ti arrappichi Sembra una strana Mi ricordano i fagioli magici Che abbiamo trovato Aspetta una Fammeli scavare Oh Che hanno dato Mario Che cos'è Concentrate ed essence berry Me li mangio Essenza Prova Mangia Ah da esperienza Ah ok Pensavo chissà che cosa Vai vai Trova Anna Mario Trovala presentila Eccola Eccola Brava ok Allora vai Collocala Collocala Non abbiamo tempo da perdere Allora io non ce la faccio più Voglio Voglio un'altra armatura Aspetta Questa armatura Questa armatura è orribile Non si può stare così Mi attiro tutto Guarda Se io adesso voglio Mettiamo caso io voglio buttare questi cactus Non posso Continuano a girarmi Io devo farmi l'accendino Perché me lo posso fare Voglio accendere Ok Voglio accendere io Questo portale E non ce la faccio Io mi suicido eh Per questa armatura mi suicido Entrate Uno appresso all'altro Entrate dentro il portale Vado io Forza Forza Tutti Non me lo ricordavo Quanto era brutto e schifoso Questo mondo L'odio L'odio a morte Forza ragazzi Sbrighiamoci Andiamo nella direzione giusta E qua ricordatevi Un blocco in questa dimensione Equivale Mi pare a sette blocchi Nel mondo normale Quindi sarà molto Molto più facile Arrivare Te dove sei Dai Sto arrivando Dai Sbrigati Forza Siamo quasi arrivati Ecco casa Stiamo a giocare Con i granchi Finalmente Abbiamo 3008 Di pandemonium Con tutti questi viaggi E tu giochi con i granchi Ma ti faccio diventare io Del surimi Comunque Surimi di Stefano Non lo mangerei Neanche se fosse L'unica cosa Al mondo Che mi è rimasta Comunque Siamo arrivati a casa E in questo momento Noi Dobbiamo trovare Qualcosa che ci faccia Entrare là dentro Se come ha detto Anna Questo qualcosa Dovrebbe essere Dentifricio Quindi Quello che dobbiamo fare In questo momento Sperando E sperando Che anche questa volta Le cose vadano Come previsto E che sia vivo Perché lui sarà ancora vivo Dico bene ste Dici benissimo Sì sarà ancora vivo Sarà ancora vivo E deve essere da qualche parte Qua intorno Perché se è scappato Non può essere andato Tanto lontano Consigliateci se potete Nei commenti Dove andare a cercare Il buon dentifricio Perché potrebbe essere Da qualsiasi parte In una caverna Là lontano In qualsiasi direzione Se avete un'idea Vi prego Scrivetela nei commenti In questo momento Abbiamo bisogno Del vostro sostegno Quindi pollice in su al video Arriviamo a 30.000 Per il prossimo episodio Ed io vi auguro Una buona giornata Da Stefano Lion Anna E Mario Out